E' una grande soddisfazione anche perché io di Saloni ne ho visti tanti e non sono mai andato all'inaugurazione perché i turisti pensano che il giorno dell'inaugurazione c'è troppa gente. E invece no, io talvolta, una volta sono andato all'inaugurazione e ho visto che invece era proprio il giorno giusto per andare a vedere le barche. Quindi a parte questi dettagli per me è un'emozione, sarà quel giorno lì, mi sa che mi verranno le lacrimucce, può darsi. Abbiamo organizzato un pacchetto che è veramente la prima volta che c'è qui a Genova ed è veramente competitivo anche rispetto alle altre città del mondo che organizzano Saloni. Su questo è davvero assolutamente positivo. Io vado sempre a vedere il Salone come turista, quest'anno ci sarà anche la regata delle Mille Vele per cui io andrò a fare la regata delle Mille Vele che è una cosa bellissima. È un'altra manifestazione aperta a tutti dove se fate i conti di quanti genovesi partecipano alla regata vedrete che sono numeri veramente importanti. Mi sento confidente che abbiamo messo in piedi veramente un sistema intelligente per contrastare tutte le azioni di terrorismo in collaborazione con il prefetto e con il questore.